ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ad alpina alpina è la prima volta che porto sul canale questo marchio svizzero storico che nasce a fine 1800 e che percorre poi tutta la storia dell'orologeria svizzera fino ai giorni nostri chiaramente con diverse fasi tra cui ad esempio la crisi del quarto nella quale viene ceduta di mano in mano passa di proprietà fino ad arrivare nel 2002 ed essere acquistata da frederick costan che poi a sua volta viene acquistata dal gruppo citizen quindi oggi sia frederick costan che alpina fanno parte del gruppo citizen grande gruppo orologiero uno dei più grandi del mondo se non il più grande curiosità vuole che se noi guardiamo andiamo in svizzera e guardiamo io l'ho fatto con il simpaticissimo street view di google map no proprio io sono il viaggiatore dei poveri sono andato a vedere nella stradina lì dove c'è l'indirizzo e tra l'altro la curiosità è che nella stessa strada c'è anche piaget ci sono anche altre manifatture altre aziende che lavorano nel campo dell'orologeria questo per ribadire il fatto che in svizzera in ogni città in ogni angolo c'è qualcosa dedicato all'orologeria quindi anche più facile sviluppare no idee relative a questo mondo ecco nella strada lì c'è questa costruzione moderna nella quale una facciata è dedicata ad alpina e l'altra facciata dedicata a frederick costante giusto per mettere i punti sulla i per far vedere che il centro logistico è lo stesso la sinergia la sinergia per avere tutto sotto controllo le ha portati ad avere lo stesso stabile in comune detto questo perché ce l'ho sul canale perché me l'ho messo a disposizione l'amico giacomo che è titolare della gioielleria pasquale domenici via reggio che è partner del canale e concessionaria del marchio da poco da una settimana avrete visto nello scorso video quando sono andato in negozio che c'era tutta una sterminata di orologia alpina e io ho potuto quindi sceglierne uno da portarmene a casa devo dire che sono stato abbastanza indeciso perché diciamo che il 90 per cento degli orologi alpina che ho visto erano di mio gusto mi piacevano proprio avrei potuto prenderne uno a caso invece ho scelto questo perché mi sembra quello un pochino più in verità è anche abbastanza quello più più normale quello più sobrio quello con meno particolarità che però per i miei gusti trovo più adatto addirittura sarebbe stato interessante portare anche sul canale il regolatore quello con la lancetta delle ore di minuti separate no che è particolare che magari non è al cento per cento nei miei gusti ma sarebbe stato interessante da tastare con mano e da mostrarvelo è comunque ho scelto questo qua l'alpiner 4 l'alpiner 4 che viene declinato in tre colorazioni al momento allora una blu quella che ho scelto io da portare qua che secondo me è più bella poi ce n'è una uguale a questa come lavorazione ma grigia e poi ce n'è uno che non c'entra niente con gli altri due perché al quadrante piano liscio che è blu anche quella che secondo me era meno appetibile a livello di poi magari ci sarà qualcuno a cui piaceva di più quella con il quadrante liscio va bene però io ho scelto quella con il quadrante a righe orizzontali e blu cobalto veramente un bijou ho deciso di portarla sul canale perché mi piace e poi per parlare un po' di alpina per vedere come sono fatti sti orologi qua no adesso vi mostro l'orologio del giorno che è questo simpaticissimo omega acqua terra dei primi anni 2000 quindi con il calibro 2500 quassiale quel calibro realizzato su base eta 28 92 con l'innesto dello scappamento quassiale e che tanto ci piace guardare sobrio semplice every day watch per antonomasia diciamo anche se va un pochino più sull'elegante ecco a proposito di every day watch questo che andremo a vedere è veramente le every day watch every day watch più che verde watch l'ho detto every day watch se non l'ho detto lo ridico every day watch no più che altro l'orologio per fare quello che ti pare il go everywhere and do anything è così go anywhere do insomma una cosa per fare tutto quello che vuoi no perché poi vediamo anzi vediamo subito giriamo la camera e guardiamo la panoramica e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni finali iniziamo come di consueto con l'elencare i risultati ottenuti dalle misurazioni sul campo diametro cassa 40 mm spessore 12.5 ingombro trasversale al polso 46.4 e in terra seansa da 20 mm misure che oserei definire ideali per qualsiasi tipologia di polso anche alla luce del fatto che si tratta di un orologio sportivo da indossare in qualsiasi occasione e non di un orologio che mira a rappresentare l'eleganza formale in assoluto lo si evince sia dall'aspetto che dai contenuti a livello di design occorre sottolineare che si presenta con una ghiera girevole dal diametro più contenuto rispetto al corpo sottostante così facendo si riesce a scorgere una maggiore porzione di cassa con susseguente messa in evidenza delle relative lavorazioni mi riferisco a quella smussatura lucidata a specchio che corre lungo tutto il bordo superiore è infatti possibile apprezzarne in toto la sinuosità grazie al ridotto ingombro della ghiera stessa il suo fine ultimo è quello di separare nettamente le varie superfici presenti che si distinguono anche per la differente finitura molto più evidente quella longitudinale sul lato carrur è più sottile quella concentrica sul dorso ansa insomma dettagli curati come vuole la tradizione degli orologi di qualità che siamo abituati a vedere in questa fascia di mercato osservando dall'alto si può constatare come la testa si presenti con una silueta alquanto sinuosa che termina il momento in cui le ansie si vanno a raccordare con il bracciale in quel punto gioca un ruolo fondamentale la smussatura che allargandosi si trasforma in uno scivolo inclinato che affoga nei finali senza mostrare alcun dislivello percepibile ma è la scelta di utilizzare una ghiera girevole a caratterizzare fortemente lo spirito di questo alpiner innanzitutto diciamo subito che non si tratta di un diver e si presente la ghiera girevole ma semplicemente come accessorio non identificativo utile a monitorare i tempi di qualsivoglia evento ma non necessariamente delle immersioni tra l'altro è bidirezionale per semplificare la manovrabilità e a 96 scatti una scelta insolita ciò che apprezzo di questo componente è il fatto che sia realizzata in acciaio satinato questa è una soluzione che da sempre rientra nei miei gusti specie si è realizzata con tutti i crismi qualitativi del caso vedi appunto spazzolatura circolare numeri incisi e laccati e dot luminescente incastonato ad ore 12 allo stesso modo è bene evidente l'assenza delle spallette di protezione alla corona una scelta stelistica molto in voga anche sugli orologi con cannotto filettato come in questo caso va da sé che corona vite e fondello avvitato integralmente la cassa gli consentono di poter dichiarare una resistenza alla pressione di 10 atmosfere dato ideale per un orologio sportivo da indossare ovunque che non gli preclude l'utilizzo anche al mare in tutte quelle situazioni normalmente previste per noi comuni mortali visto che siamo nei pressi diamo lo sguardo al fondello e a cosa c'è sotto alpina nella maggior parte dei casi utilizza fondelli chiusi e decorati come in questo caso in basso rilievo troviamo le tre cime alpine che rappresentano anche il logo della casa niente di particolarmente eccitante ma tutto sommato ben realizzato ciò ci impedisce di vedere il movimento sottostante che altri non è che il sellite sv200 versione standard calibro di fornitura straconosciuto che nella nomenclatura di alpina diventa al525 28.800 alternanze orarie 26 rubini e 38 ore di riserva di carica per un meccanismo sul quale non occorre spendere ulteriori parole un buon calibro di fornitura e niente di più ruotiamo invece l'orologio per dare uno sguardo al lato a fulcro estetico di ogni segnatempo che si rispetti di primo acchito ciò che colpisce è la somma delle lavorazioni superficiali ossia finitura sunray abbinata a linee orizzontali incassate una superficie quadrante che gioca con i riflessi di luce unità dei solchi che invece l'assorbono questo connubio riesce a creare una texture visiva dinamica che restituisce un senso di profondità alquanto percepibile anche ad occhio nudo se non fosse sufficiente sulla circonferenza interna è presente una flangia che mostra la minuteria posizionata a 45 gradi rispetto al piano dial aguzzando la vista si possono poi notare altri interessanti dettagli in rilievo quali gli indici applicati ed il logo ad ore 12 tutte caratteristiche che contribuiscono a favorire quella sensazione di tridimensionalità che da sempre aumentano l'appeal di un quadrante ben realizzato a livello di design occorre dire che non vi sono sprazzi di eccentricità e originalità ogni elemento pare essere stato scelto per svolgere il proprio ruolo senza voler sopravvanzare gli altri lui si evince anche dalla scelta di utilizzare semplici indici a matita e sfere simil alfa una sagoma sobria asciutta e mirata alla leggibilità che come è palese risulta essere di eccellente livello grazie anche al fondo quadrante alquanto scuro non tanto per la tonalità scelta un blu cobalto che apprezzo particolarmente ma quanto per le scanalature nere che tendono a scurire di parecchio l'intera superficie del dial specie se inclinato in soldoni si tratta di un quadrante equilibrato e ben leggibile con un'unica nota di vivacità data dal contrappeso della sfera secondi un triangolo rosso che rappresenta la cima della montagna o per meglio dire il logo stesso di alpina anche in assenza di luce risulta perfettamente comprensibile la luminescenza si attiva su ogni accento utile presente sul quadrante e sul dot posto sulla ghiera esterna rendendola utile anche in caso di monitoraggio intervalli di tempo al buio non rimane che parlare del bracciale di buona qualità e correttamente dimensionato a livello di spessore al resto dell'orologio il design non fa gridare al miracolo i tre classici segmenti indipendenti con quelli esterni satinati e la maglia centrale lucidata in stile oyster per intenderci da sottolineare che parte da 20 mm alleanze per poi rastremare 18 verso la chiusura e questo gli conferisce una certa comodità al polso comodità che può essere messa a rischio dal non trovare la giusta lunghezza in quanto la chiusura farfalla porta con sé come al solito l'assenza di una regolazione fine veloce occorre lavorare con le maglie e fortunatamente sono presenti due mezze maglie che consentono di giocare con la misura da trovare chiaramente non le ho smontate ma vista l'assenza di frecce incise all'interno devo supporre che siano presenti i pin a pressione uniti ai classici collarini possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali orologio che sicuramente promosso e poi per i suoi 1395 euro di listino direi che anche abbastanza insomma un prezzo onesto mettiamola così diciamo onesto come un qualsiasi micro brand italiano ad esempio punti deboli io non ne ho trovati punti deboli tecnici non ne ho trovati e sinceramente l'unica cosa sulla quale posso avanzare dei dubbi ma non è un dubbio la corona no è a vite ma non è che in truppa come ho detto altre volte qua non in truppa qua è liscia però bisogna fare bene pressione quando si vuole avvitare bisogna fare bene pressione girare altrimenti al primo colpo si potrebbe anche fallire ma non è un problema tecnico poi il minus non c'è nessuno sono tutti quelli che vi posso avanzare sono i soliti a livello personale parere personale che poi sono anche inquinati dal gusto personale ad esempio il bracciale in stile oyster con la maglia centrale lucida lascia un po il tempo che trova no si poteva fare di meglio certo che è difficile inventare un design di bracciale da zero no il solito chicchi di riso ha stufato anche chicchi di riso però qualcos'altro di differente da questo tipo di la maglia lucida centrale poi un orologio che ci vuoi fare tutto quello che ci vuoi fare ti da sì quel tocco di lucentezza al polso ma avrei preferito tutto satinato e ragazzi come al solito così come la la chiusura farfalla che sembra sempre una moda che sta prendendo sempre più piede anche sui diver sugli orologi sportivi questa cosa della dell'eleganza della chiusura farfalla quando qua ci sarebbe stata bene una bella scatoletta di quelle maschi anche con i forellini non ci interessano però insomma un orologio così everyday watch la farfalla va bene però non sono cose che vanno ad inficiare la qualità dell'orologio o del gusto poi ci saranno persone alle quali piace di più la chiusura farfalla per il resto ecco un'altra cosa che lascia un po dei dubbi cioè dei dubbi che ti fa pensare è la ghiera girevole no bidirezionale va benissimo bidirezionale non è un diver così facciamo prima a girarla di qua e di là per prendere i tempi se andiamo in montagna mettiamola così però 96 scatti è un po insolita 96 scatti perché 96 cosa sono 96 96 è un multiplo di 24 24 48 72 e 96 cioè le ore 24 ore 48 72 ore e 96 ore sono quattro giorni è a senso è stata creata per gli orologi gmt no laddove se la fai 72 scatti 96 scatti vai a beccare le frazioni di ora 96 scatti cosa vuol dire vuol dire che questo qua sarebbe in grado di beccarti il quarto d'ora in un'ora ci sono quattro quarti d'ora quindi sarebbe in grado di in un giorno di far di dividere i quarti d'ora ha senso su un orologio che non è gmt no non ha senso sarebbe stato meglio a 60 scatti no belli semplici tuc 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 60 minuti 60 scatti e cosa ce ne frega però va anche detto che non è che ti va a inficiare il lavoro della ghiera perché quando ti porti la sfera il triangolino che è sul dot sulla sfera minuti non sta nemmeno a vedere lo scattino se c'è se non c'è la becchi e poi vai a calcolare il tempo i 5 10 15 20 minuti li calcoli uguale vabbè capito però strano 96 tra l'altro non c'è neppure la versione di questo gmt non esiste non esiste la versione gmt gmt alpina ce li ha in altri modelli comunque detto questo è un bello orologio cioè punti i punti a favore sono veramente 100 metri a coronavite quindi orologio con il quale puoi fare tutto quello che vuoi anche andare al mare volendo cioè 100 metri ce li ha bello il quadrante proprio bello questo quadrante blu così con le righine e questo effetto sun ray ci piace tanto come mi piace tanto la ghiera in acciaio con la satinatura circolare bella sai la mancanza dei spalletti di protezione me lo fa subito spiattellare lì in quel simile retro e poi le anse che vanno a finire fanno vanno a elica e vanno a finire sul bracciale proprio andando a fare un tutt'uno allora come aspetto come aspetto è estetico come finiture non c'è nulla da dire a parte quei piccoli punti deboli quelle ombre che ho detto prima questo orologio è veramente poi 1295 amico giacomo qualcosina vi toglie vai tranquillo secondo me la butto lì ci arriverà poco più di mille magari non lo so fatevelo fare voi telefonatevi fate fare prezzo io non lo so però vale la pena sto orologio qua altre cose da dire non ne ho fondello chiuso tanta roba finalmente con le montagnette così se l'id sv200 calibro da tutti i giorni da battaglia diciamo la battaglia insomma per gli orologi svizzeri è sempre un signor calibro niente per me promosso piacevole e non vedo l'ora di portare altri orologi del di alpina sul canale anche se ora sono un po di pausa non è che posso portare ogni giorno un alpina dopo è che si esagia ci vuole anche un po di un po di altri orologi se no sempre panna 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 poi ti viene a stufare ora ragazzi vedo tutto io ho messo lì le fotografie le macro le descrizioni tecniche credo di essere stato esaustivo se così non fosse me ne scuso ma a questo punto io vi devo abbandonare perché belli belli gli orologi ma i gattini su instagram battono tutti quindi io vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come al solito sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao ciao ciao